Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video dove parliamo di Messias che è un nuovo giocatore del Milan Allora, però prima di farlo vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale Dai ragazzi, arriviamo presto a 100 iscritti Dove parliamo di Messias che è un nuovo giocatore del Milan e parliamo anche del colpaccio della Lazio Allora, parliamo prima del Milan Parliamo del Milan che ufficializza il colpo Messias In prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni Il prestito oneroso, 2 milioni e 6 l'ha pagato, 2 milioni e 8 intorno a queste cifre E qui ho visto dei tifosi del Milan che scrivevano sui social No, non mi piace, non sono d'accordo su questo colpo Ma Maldini che fai? Maldini ma che stai facendo? Che c'entrava questo colpo? Allora, tifosi del Milan, questo colpo secondo me è un colpo buono da parte del Milan Perché la passata stagione, non dimenticatevi Messias ha fatto un bel campionato Non dimentichiamoci, Messias ha fatto un bel campionato Ha fatto un bel campionato e non dimenticatevelo E questo colpo viene preso per tappabuchi Come dice Brian Diaz Brian Diaz, secondo me questa stagione è inamovibile È il titolare È il titolare Perché poi ci hanno dato la numero 10 Se poi lo mettono in banchina È il numero 10 Titolare, 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 titolare Brian Diaz Ha comprato ieri In Milano Ha comprato ieri Adli Adli Che ne ho parlato proprio in un video Dove ho parlato un po' di calcio mercato di Serie A Ha comprato ieri Adli Però l'ha rimesso in presso dal Bordeaux Visto che l'ha rimesso in presso dal Bordeaux L'anno prossimo arriverà a Milano L'anno prossimo arriverà a Milano E sarà del Milan E sarà del Milan Quindi Messias lo rispedite al Mittende Lo rispedite a Crotone L'avete pagato 2 milioni e 7 E ne hai un giocatore tappabuchi per un anno Che poi Poi quando lo chiamate presente Quando lo chiamate rispondete anche presente Perché ragazzi Io ricordo la stagione fatta a Crotone Ha fatto veramente una bella stagione a Crotone Comunque a 30 anni Perché il Milan penso che non lo riscatterà mai Ma anzi l'ha preso con presso i Donneros 2 milioni e 6 Spende solo 2 milioni e 6 E poi lo rispedisce di nuovo a Crotone Quindi una bella operazione svolta da Maldini Io gli faccio complimenti a Maldini Invece poi i tifosi del Milan Lo scriticano Maldini Secondo me hanno fatto una bella operazione Poi stanno anche dei tifosi del Milan Che sono contenti Perché capiscono qualcosa Comunque Comunque Parliamo un po' della Lazio Del colpo Lazio La Lazio ufficializza il colpaccio Il colpaccio Secondo me hanno fatto un colpaccio La Lazio ha ufficializzato Ha ufficializzato Zaccagni Ha ufficializzato Zaccagni 6 milioni Più 2 di bonus Quindi in totale 8 milioni Si porta a casa Un 26N Un 26N con 8 milioni Secondo me può fare molto bene Con Sarri Ancora meglio Di come ha fatto con Giuric E' partito anche bene In questo inizio di campionato Facendo la prima giornata Una doppietta E quindi E quindi Si vuole ritornare Molto utile In casa Lazio Vuole ritornarsi Molto utile in casa Lazio Ragazzi Quanto è che lo titolo E in quest'estate Sta Stavo spendendo soldi Con l'acquisito di Felipe Anderson Pedro Isai Poi chi più Basic Aspè Ho perso il conto Felipe Anderson E' uno Pedro E' due Basic E' due E' tre Il quarto Isai Zaccagni Lo stesso Zaccagni E' cinque Cinque acquisti Ma Cinque acquisti Per Sarri Per il gioco di Sarri Che già la squadra Sta andando bene Per Sarri Basic Viene preso Per il futuro Perché Correa Eh Correa Scusate Lugas Leva Sicuramente avanza Con gli anni Ha 34 anni Quindi Gli infortuni Possono aumentare Se ne può andare Dalla Lazio Finirà la carriera Dalla Lazio Ma fra 3-4 anni Sicuramente Si ritirerà Si ritirerà Dipende Dal suo fisico Allora Quindi questa Lazio Secondo me Si sta muovendo bene Si è mossa bene Perché penso Che è finito Qui il calcio mercato Dalla Lazio Perché alle 20 Alle 20 di stasera Finisce il calcio mercato Quindi Quindi penso Che la Lazio Non 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 si muova più Sul calcio mercato Penso che Sarri Sia anche soddisfatto Sia anche soddisfatto Sarri Perché secondo me Sarri Ha fatto un ottimo Cioè Sarri Ha una bella squadra A disposizione In questo caso Ha fatto anche Un bel calcio mercato La Lazio Con L'ho dito Che finalmente Si è deciso A calciare qualcosa Di soli Secondo me Li ha spesi bene L'ho dito i soldi Comprendendo Felipe Anderson Pedro Che però Pedro Poi Basic Zaccani Isai Vabbè L'ha preso a zero L'ha preso a zero Ha pagato Lo stipendio Ha fatto un bel calcio Mercato Ragazzi Tifosi laziali Non Penso che siete Soddisfatti Penso che siete soddisfatti Ho fatto un calcio Mercato per Sarri E poi puntare Alla Champions League Perché guardate ragazzi La Lazio Può puntare Alla Champions League Io ho fatto Ho fatto Il pagellone No il pagellone La classifica Secondo me I pronostici Di classifica Marcatori Vabbè E anche Capocannonieri E anche quella La classifica Delle squadre La Serie A 2021-22 Vara 22 E Sì La Lazio L'ho messa in un posto Un po' Tra le prime sette Però Ho messo in un posto Non nelle prime Quattro dicempo Però Vedendo la Lazio Inizio campionato Qualche dubbio Mi so Sì Ha giocato solo contro L'Embra E contro Lo spezia Ma il gioco Di sali Già si vede Già si vede Un mago Proprio Un mago Proprio Che fa le magie In mezzo al campo Assist in quantità Goal in quantità Giocatore proprio Da fanta calcio Ma anche l'anno scorso Con Iza Comunque ragazzi Comunque ragazzi Il video può finire qui Spero che vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Lasciate tantissimi like Iscrivete al canale Dai ragazzi Andiamo presto 100 iscritti Lasciate un commento Anche voi Tifosi laziali Voi tifosi miliani Lasciate un commento E niente